Allora, i Cuzzo, ho chiamati anche in un altro modo, ma non... Cuzzo o cazzo? Ecco, perfetto. Però di Bocconi saranno i Cazzo, perfetto. Perché essendo un'università... Certo, perfetto. Salve, Rettore. Allora, l'unico gruppo più o meno alternativo con una tendenza leggermente avanguardista, anche se guardiamo da un punto di vista internazionale, che si esibisce qui a Sanremo. Questa cosa di non essere esattamente sulla stessa lunghezza d'onda degli altri, ma il fatto di essere su un'altra lunghezza d'onda, vi spaventa? Pensate che sia uno svantaggio o un vantaggio? Noi siamo veramente contenti, invece, perché abbiamo portato il progetto così com'è dentro Sanremo, dove non avremmo mai pensato di essere inseriti. Quindi, no, siamo contenti, ci diverte, ci fa pure un po' ridere questa cosa. Tutti sono molto composti, invece abbiamo noi questi quattro tipacci vestiti male, insomma. È divertente per noi. Perché siete anche un pochino sulla stessa linea degli ospiti internazionali, possiamo dire. Quindi siete un pochino oltre lo spazio di Sanremo. E questa cosa c'è un'ora, sì. No, infatti, grazie, è una cosa importante. No, è un complimento molto velato e comunque tutte, ottima musica, grazie, è molto sincera. Invece, cosa fondamentale, a proposito del palco dell'Ariston, che è un palco molto particolare, parlavate di Rino Gaetano, Gianna, eccetera, pensate di poter attirare un pubblico giovane da quel punto di vista, che invece non può amare gli italianissimi anche dei Big Moreno oppure dei Giovanni Caccavo, eccetera. Cioè potete attirare una certa frangia di giovani. Questa è un po' un'incognita, nel senso che dovunque noi abbiamo suonato, in realtà abbiamo sempre avuto una risposta positiva, perché quando la gente ascolta e guarda capisce anche meglio. Ora, è vero che magari un certo tipo di giovani hanno proprio un altro linguaggio, quindi lì potrebbe essere, bisogna capire proprio lì, in quel momento, quale sarà la loro percezione, non lo so. Cioè, sono convinto che l'idea generale sia positiva, nel senso che comunque noi accogliamo le persone, non credo che le respingiamo nel nostro atteggiamento. Però, ecco, chi ascolta Marco Carta... potrebbe avere un po' di difficoltà ad ascoltarvi. Capiamo, è da capire, non lo so, non lo so, è da capire. E sempre rimanendo sul palco dell'Ariston, perché proprio Sanremo? Siete un gruppo molto diverso rispetto agli standard di Sanremo. Non potevate per caso provare, forse dirò, una bestemmia per voi, un talent come X Factor, che anche altre volte ha accolto dei gruppi più simili? Ma, allora, la risposta è un po' complessa, nel senso che nella nostra carriera noi siamo sempre andati avanti cogliendo le occasioni che capitavano sul nostro percorso. Noi non avremmo mai deciso da soli di andare a Sanremo, come non avremmo mai deciso da soli di andare a X Factor. Però arrivò la telefonata di Alex Britti a dicembre, con cui abbiamo già collaborato in passato, quindi ci conoscevamo già in realtà, e che ci ha chiesto, ma voi avete pensato a un brano da portare a Sanremo? E noi non avevamo pensato ad un brano, perché non stavamo proprio pensando a Sanremo. Però, siccome avevamo il disco già pronto, abbiamo detto, guarda, c'è questa canzone che potrebbe andarci. Abbiamo provato, insieme con l'etichetta di Alex, la Hitpop, ed è andata bene, quindi a quel punto ci abbiamo creduto. Il discorso dei talent non l'abbiamo selezionato, è capitata questa cosa e noi prendiamo tutte le opportunità. Esatto, anche perché il nostro progetto è un po' totipotente, nel senso che può essere inserito in ogni situazione, purché ci sia data la libertà di esprimerci come siamo. Ora tutto il gioco sul nome a noi non interessa, avremmo pure potuto chiamarci... Per noi era la stessa cosa, non è quello l'importante. L'importante è andare sul palco e non avere limiti comportamentali. Fra le varie esperienze che avete avuto, c'è stata anche quella per cui avete aperto il concerto di Go Gold Bordello, tra parentesi io adoro, che ho visto anche qui all'Alcatrazza in Milano. e per esperienza anche personale Go Col Bordello suona un gruppo che punta anche più o meno alla spettacolarizzazione e vorrei sapere se avete carpito moltissimo dall'esperienza con questo particolare gruppo e se la porterete sull'Ariston come già si accennava prima in conferenza stampa quanto sarà importante anche la spettacolarizzazione della vostra musica? Cioè Donatello che l'ha detto ai costumi diciamo riguardo a Go Col Bordello abbiamo apprezzato il loro concerto soprattutto l'aspetto della coordinazione dei movimenti sul palco cioè è uno spettacolo veramente dinamico e coinvolgente noi cerchiamo di fare lo stesso, facciamo lo stesso per quanto riguarda il Festival di Sanremo riassumendo tutto un concerto in due minuti io mi travestirò, ho preparato già più costumi uno per ogni serata nel caso che andiamo avanti nella competizione anzi invito tutti a votarci per farci andare fino in finale in modo che vedrete i miei costumi quindi ovviamente l'aspetto della spettacolarità a seconda comunque dei mezzi che abbiamo perché ovviamente non è che abbiamo scenografie aereiche intorno sul palco eccetera però cerchiamo con i nostri movimenti consulti di fare spettacolo Allora grazie mille a Ipuzzo se volete salutare Radio Bocconi per noi Ciao Radio Bocconi studiate, studiate e votate Ipuzzo a Sanremo grazie mille